Dal 2 al 30 aprile, lavori lungo la ferrovia Domo Milano, alcuni treni partiranno e arriveranno da Premosello. Allerta arancione per Valanghe, statale del Sempione chiusa tra Iselle e Gondo, chiusa anche la Goglio d'Evero, Riale isolata. Da martedì 2 aprile riapre il cantiere per l'adeguamento sismico del viadotto dell'A26 a Gravellona Toce. Dopo l'episodio della donna abusata a Domo dai carabinieri, la rassicurazione, episodio isolato, città sicura. Il bilancio dell'amministrazione Marchionini, lasciamo conti solidi, tanti progetti che hanno cambiato in meglio la città. Fino a Pasquetta, tra Regovigiono ospita il sentiero d'arte, una cinquantina gli artisti protagonisti. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. In primo piano, allora, la notizia che arriva per quanto riguarda la circolazione ferroviaria. Da martedì e sino alla fine di aprile, a seguito di lavori lungo la tratta a Domodossola-Premosello, alcuni treni arriveranno e partiranno da Premosello. I dettagli. Per i pendolari della tratta ferroviaria a Domodossola-Milano non c'è pace, mentre sono in corso i lavori di adeguamento delle gallerie strese a Rona, ovvero il primo lotto delle opere di ammodernamento del corridoio a Lerchberg-Sempione, che comportano lungo questo tratto l'interruzione della circolazione ferroviaria tra le 10 e le 15 di tutti i giorni feriali, e in attesa dello stop totale dei treni lungo l'asse ferroviario Domo-Arona a partire dall'8 giugno e fino al 9 settembre, ecco arrivare la notizia di una chiusura parziale dei treni tra le stazioni di Domodossola e Premosello. Succederà a partire dal 2 fino al 30 aprile. Il provvedimento, spiegano da RFI, è necessario per consentire il potenziamento infrastrutturale della linea. Attenzione, perché i lavori comporteranno cambiamenti al traffico regionale. Per effetto del blocco della circolazione, i treni delle 16.01 e 18.01, in partenza da Domodossola e diretti a Milano-Porta-Garibaldi, faranno capolinea a Premosello, con partenza rispettivamente alle 16.14 e 18.14. Stessa sorte per i convogli numero 10.228 e 10.232, in partenza da Milano-Porta-Garibaldi alle 13.46 e 15.46 in arrivo a Domodossola, due ore dopo. Entrambi i treni si fermeranno a Premosello-Ciovenda alle 15.37 e 17.37. Sappiamo che i lavori di ammodernamento sono necessari, avremmo voluto un confronto con RFI e Trenord che gestiscono il servizio. Ora neppure la preventiva informazione per permettere a lavoratori e studenti di organizzarsi l'amara constatazione di Lisa Tamaro, ex portavoce del Comitato Pendolari della Tratta. Il coro delle proteste è destinato ad aumentare, valutato che la notizia è arrivata in periodo prefestivo e dunque una sorpresa per più di un pendolare, già in vacanza per il Ponte Pasquale. Lavori di manutenzione straordinaria sono in programma anche più a nord, sempre lungo la Tratta del Sempione, ma in territorio ossolano. Le notti fra il 6 e l'8 aprile, tra Iselle di Trasquera e Domodossola, i treni si fermeranno. BLS ha già comunicato con largo anticipo che lungo la tratta sarà però attivo un servizio bus sostitutivo. E ora invece parliamo dell'allerta valanghe. Sull'arco alpino il rischio è arancione, vuol dire tre su una scala di cinque. Nel pomeriggio tre valanghe sono cadute lungo i versanti che costeggiano la statale del Sempione. Vediamo appunto le immagini. La neve non ha invaso la carreggiata. In via precauzionale il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco, sentita la prefettura del VCO, ha disposto la chiusura dell'arteria internazionale. A seguito del blocco viario della statale 33, lunghe code si sono create nei pressi della stazione ferroviaria di Iselle. Vediamo appunto le immagini da dove parte la navetta diretta a Briga. Queste appunto erano le autovetture oggi presenti a Domodossola e che dovevano rientrare sorpresi però dalla situazione viaria. Per effetto di tutta questa situazione da oggi è stata chiusa, dalle 15 di oggi anche la strada comunale che da Goglio sale al Devero. Siamo nel comune di Baceno. Anche qui la situazione viene monitorata a causa della neve. A Macuniaga, a seguito delle valutazioni della Commissione Valanghe, alcune zone fuori paese sono state interdette all'uomo. in Valformazza, permane già da ieri il divieto di circolazione stradale tra le fazioni di Canza e Riale. E quindi da ieri Riale la culla del fondo risulta isolata. Intanto alla luce del bollettino Arpa Piemonte, la sala operativa della regione è stata aperta alle 16 di oggi per monitorare la situazione e disporre eventuali interventi in caso di necessità. Da domani l'alerta sarà gialla per rischio idrogeologico su tutto l'arco alpino in quanto si prevede un'intensificazione nelle prossime ore delle precipitazioni, soprattutto nel quadrante del Piemonte settentrionale. Questa dunque la situazione meteo da monitorare. Dalla regione arriva l'invito a non spostarsi, se non necessario, per le zone di montagna. Ora invece parliamo di viabilità perché riprenderanno martedì i lavori alla viadotto del Quadrifoglio a Gravellona. Tutte le istruzioni nel servizio. Dopo la pausa pasquale, da martedì riparte il cantiere per l'adeguamento sismico del viadotto dell'A26 sul ponte della statale del Lago Maggiore a Gravellona-Toce. A partire da martedì prossimo, 2 aprile e fino al 24, verrà installato un nuovo scambio di carreggiata che impedirà l'uscita da Ornavassa a Verbania e gli ingressi da Verbania a Genova e da Gravellona-Toce a Ornavasso per consentire i lavori nella carreggiata sud. Come è successo in coincidenza con il ponte pasquale, anche in concomitanza con le vacanze 25 aprile e 6 maggio, il cantiere sarà sospeso. Questo, spiegano dalla società autostrade, per consentire il regolare frusso autostradale in un periodo di maggior traffico. Le lavorazioni con impatto sull'esercizio autostradale finiranno comunque entro la prima metà di maggio, al fine di salvaguardare i maggiori flussi di traffico estivi. Domodossola è una città sicura. Il caso della donna aggredita e abusata, che tanto ha fatto discutere due settimane fa, era venuto in un palazzo del centro cittadino. Di tutto questo abbiamo parlato con il comandante dei carabinieri della compagnia di Domodossola. Il recente fatto di cronaca dei giorni scorsi ha un po' scosso l'opinione pubblica a Domodossola, ma l'impegno delle forze dell'ordine per garantire una città sicura c'è. Sì, l'impegno è quello quotidiano, massimo, nostra come arma dei carabinieri, di tutte le forze dell'ordine che stanno sul territorio. È stato un caso, un caso molto grave, ma limitato a se stesso. I dati in nostro possesso ci danno una situazione assolutamente tranquilla nella norma. Quanto è importante la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine? Questo è un caso emblematico, no? La collaborazione è fondamentale, noi lo diciamo sempre. Non bisogna cedere all'indifferenza, non bisogna girarsi dall'altra parte. Qualunque situazione di anomalia, qualunque sospetto, dubbio che il cittadino ha, deve subito chiamare il 112 e segnalare la situazione che ha notato. Così le nostre pattuglie possano tempestivamente intervenire. Lei faceva parte della pattuglia che l'altra sera è intervenuta in piazza stazione per soccorrere la cittadina che ha avuto violenza. Che scena si è trovato di fronte? Allora, noi siamo stati allertati dalla centrale operativa in quanto un passante aveva segnalato che poco prima aveva visto un uomo che stava aggredendo una donna. Aveva provato a dividerli, ma non c'era riuscito. Allora ci siamo portati, noi eravamo nelle vicinanze, quindi ci siamo portati immediatamente sul luogo indicato dalla centrale, alla stazione ferroviaria. E niente, lì abbiamo visto questo cittadino cinese che parlando inglese ci ha fatto capire che aveva assistito poco prima a questa aggressione e ci ha mostrato immediatamente un video ritraenti delle fasi di questa aggressione dei piccoli spezzoni. Siamo riusciti a capire che l'aveva portata all'interno dello stabile del condominio di fronte alla stazione. A questo punto la porta gli era chiusa, l'abbiamo dovuta sfondare e non appena l'abbiamo aperta abbiamo sentito dei rumori provenire dal sottoscala. A livello umano? A livello umano sono sempre quei reati un pochettino più forti, sempre reati molto... tutti i reati sono brutti, ma questi hanno un maggiore peso emotivo. Però logicamente la cosa importante è stata assistere la vittima, rassicurarla e fare in modo che avesse tutte le cure che nel momento aveva bisogno. La Polizia di Stato di Verbania a seguito di un'indagine della squadra mobile ha denunciato un trentenne per i reati di truffa, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci. A seguito di querela presentata in questura dalla titolare di una carrozzeria verbanese della quale lo scorso 4 marzo era stata avvicinata all'interno della propria attività da un soggetto che le proponeva l'acquisto di cellulari e accessori di una nota marca. La donna è stata convinta dal venditore ad acquistare un telefono di ultima generazione, due confezioni di auricolari, due batterie wireless ad un prezzo davvero vantaggioso. Il telefono però non era della nota marca poiché il sistema operativo risultava totalmente diverso. Il venditore non ha più risposto alle chiamate, i poliziotti della sezione antitruffa della squadra mobile sono risaliti all'auto con la quale il truffatore era giunto a Verbagna. È risultato che si tratta di un pluri pregiudicato dedito al commercio alla vendita di prodotti contraffatti in particolari relativi alla telefonia mobile. La vittima lo ha riconosciuto. Ora invece facciamo il punto relativamente ai controlli messi in atto sul territorio novarese dai carabinieri di Arona. Oltre ai controlli per l'intensificarsi della viabilità sulle strade di grande percorrenza in vista delle festività pasquali e per la sicurezza dei cittadini condotti dalla compagnia carabinieri di Arona nell'ambito dei numerosi servizi sul territorio ci sono quelli finalizzati al contrasto del fenomeno criminale connesso allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive dell'alta provincia di Novara. I militari del nucleo operativo a radiomobili di Arona coadiuvati da personale della tendenza carabinieri di Borgomanero, dalle stazioni di carabinieri di Gozzano, Romagnano Sesia, Orta San Giulio e dal nucleo cinofili del comando di polizia locale di Trecate in questi giorni hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti di nazionalità marocchina e entrambi di 26 anni senza fissa dimora. I militari sono intervenuti all'interno della zona boschiva a Tigo alla località San Colombano nel comune di Briga Novarese dove è stata segnalata una delle numerose zone di spaccio. I due estracomunitari a seguito del fermo sono stati trovati in possesso di oltre 80 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento tra cui un bilancino di precisione e circa 600 euro provento dell'attività criminale. Il rastrellamento che ha portato all'arresto dei due individui è il frutto di una mirata e costante attività investigativa che la settimana precedente consentiva in un'altra zona di spaccio posta nei boschi del comune di Gargallo al confine con la località pianezza del comune di Soriso il rinvenimento di due fucili di cui una pompa marca Franchi calibro 12 con matricola brasa e colpo in canna e quasi mezzo chilo di stupefacente suddiviso in cocaina e roina hashish. Al termine delle formalità di rito gli indagati sono stati associati alla casa circondagliare di Novara a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora la pagina amministrativa alle elezioni di Verbagna mancano circa due mesi e tempo di bilanci per il sindaco. Un comune più sobrio nei costi autorevole nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche che hanno cambiato continueranno a cambiare in meglio la nostra città con particolare attenzione alle fasce più deboli. Questo è l'ascito che il sindaco Silvio Marchionini consegna alla prossima amministrazione che guiderà Verbagna al Teatro Maggiore insieme ai componenti della Giunta ha voluto fare un bilancio dell'attività svolta ricordando i principali obiettivi raggiunti tra questi la nuova stazione ferroviaria con il movicentro la pista ciclopedonale lungo tutto il frontelago da Fondotoccia e Intra il nuovo lungolago di Pallanza quello di Intra con i parcheggi in zona Flaim e ancora la riqualificazione del patrimonio culturale come Villa Simonetta Palazzo Pretorio Villa San Remigio Casa Ceretti Palazzo Viani Dugnani con il Museo del Paesaggio Palazzo Biumi Innocenti la darsena di Villa Giulia e Palazzo Cioia sono poi stati ricordati dall'assessore Marinella Franzetti i tanti investimenti nel sociale con il potenziamento dell'emporio dei legami l'apertura del servizio odontoiatrico solidale per i bisognosi giusto una settimana fa lasciamo un bilancio solido ha aggiunto l'assessore al bilancio Anna Bozzuto nonostante le difficoltà di questi anni tra covid e costi delle bollette non si è mai fatto ricorso all'indebitamento a breve termine il nostro indice di indebitamento è sceso da 42 milioni del 2014 ai 31 milioni del 2023 l'assessore all'urbanistica Roberto Brigatti ha ricordato la sfida del nuovo piano regolatore in corso di approvazione che vuole essere uno strumento semplice a partire dalla definizione delle norme tecniche rinducendo sensibilmente il numero delle schede di intervento e proponendo delle semplici regole in grado di garantire flessibilità l'assessore a politiche giovanili di istruzione e cultura Riccardo Brezza ha ricordato tra gli obiettivi raggiunti il progetto di uno spazio per i giovani tra gli 11 e 14 anni a Palazzo Biumi un posto dove sto bene il circolo dei lettori a Verbagna la sottoscrizione del patto urbano per la cultura e il ritorno in città delle allegorie del Veronese scoperte a Villa San Remigio per l'istruzione da rilevare il nuovo asilo nido già finanziato con 2 milioni e 400 mila euro del PNRR sul piano turistico ambientale l'assessore Giorgio Comoli ha rivelato l'importante risultato del ritorno della bandiera blu dopo quasi 20 anni a Verbagna e ancora la lotta alle microplastiche l'ingresso della città nel parco Valgrande e interventi sul torrente San Giovanni per quanto riguarda invece l'assessorato di Patrick Rabaini alla sicurezza è stata ricordata l'implementazione dei servizi di videosorveglianza con 140 telecamere installate in città rispetto all'87 di inizio mandato le immagini catturate dagli occhi elettronici vengono condivise con le forze dell'ordine sono anche stati potenziati i lettori di targhe Lo chef Cannavacciuolo in occasione della Pasqua ha voluto donare all'azienda sanitaria del Verbano Cusiossola ma anche al centro ortopedico di Quadrante Colombe Pasquale per gli operatori sanitari impegnati nell'attività di assistenza sanitaria negli ospedali di Omenia Verbagna e Domodossola e anche nei servizi territoriali dalla direzione dell'Asla ma anche dal COC sono arrivati i ringraziamenti per questo dolce pensiero ed ora invece parliamo sempre di qualcosa di dolce la donazione di uova alla pediatria del Castelli di Verbagna da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri che nell'occasione ha lanciato anche un nuovo progetto che verrà attivato nel prossimo futuro 50 uova di Pasqua al reparto di pediatria dell'Asla VCO e 90 al CIS del Verbano l'Associazione Nazionale Carabinieri è impegnata a strappare un sorriso ai bambini ormai è una tradizione questa vostra donazione qui all'ospedale ma c'è una novità quest'anno che è raccontata anche in un logo presente su queste uova Sì stiamo avviando un progetto sociale per il territorio il progetto è denominato Cavallo Amico ci saranno i cavalli dell'arma dei Carabinieri che in pensione ed è un progetto in condivisione con il comando provinciale Carabinieri Verbagna il comando generale di Roma e il comando regionale di Torino Come saranno impiegati questi cavalli? I cavalli porteranno un sorriso ai bambini disabili ma non solo anche alle famiglie il sabato e la domenica sarà anche per le famiglie E poi siete presenti sempre qui in reparto dove ci sono i bambini ricoverati o comunque che stanno soffrendo però insomma voi ci siete Portiamo avanti il ricordo del Cavaliere Aceti e lui aveva sempre un pensiero per i bambini dunque un insegnamento che lui ci ha lasciato e che noi vogliamo continuare il gruppo volontari in questi anni è cresciuto perché noi oggi abbiamo anche un'unità subacquea unità droni l'unità di viabilità servizio scolastico e poi ci sarà il progetto nuovo che partirà nei prossimi mesi il progetto Cavallo Amico Dottore un bel segno di vicinanza ai vostri bambini Certo come abbiamo detto abbiamo ringraziato l'associazione nazionale dei carabinieri qui di Verbania che sono sempre molto attenti in più occasioni dell'anno ai nostri piccoli che per qualche motivo sfortunato devono far ricorrere alle cure qua da noi a ricovero o aldea quindi in questo momento anche per la Pasca speriamo avere anche un sorriso per quelli che sono qui in ospedale A Traregovigione è inaugurato il sentiero d'arte vediamo Una serie di riflessioni scritte su degli specchi e immerse nelle acque di un antico lavatoio è Riflessione una delle installazioni allestite in occasione dell'edizione 2024 del sentiero d'arte di Trarego Vigiona oggi l'inaugurazione e la manifestazione prosegue fino a Pasquetta una cinquantina gli artisti che espongono le loro opere e come sempre le case delle frazioni di Trarego e Cheglio hanno aperto le loro sale e i loro cortili e giardini al pubblico tracciato un vero e proprio itinerario artistico e installazioni anche come vedete in alcuni degli angoli più suggestivi del paese tra vie acciottolate e punteggiate dai primi colori della primavera anche la pioggia ha concesso qualche tregua molto diverse tra loro le opere esposte pittura fotografia oggetti in ceramica terracotta metallo e altri materiali trovano spazio nelle sale in giardino nelle antiche case in ristrutturazione che mantengono intatto il loro fascino tra affreschi un po' scrostati e vetrate che ci fanno immaginare gli antichi fasti affluenza per ora un po' penalizzata dal meteo ma non sono mancati oggi i primi visitatori soprattutto stranieri il sentiero d'arte è ormai una tradizione in occasione della Pasqua qui nell'alto lago maggiore con un nutrito affezionato pubblico non mancano le iniziative collaterali la sera di Pasqua nella sala a multiuso i dragoni pizza party a seguire dj set e folca miseria in concerto alle 21 e 30 a Pasquetta dalle 12 apertura del servizio pranzo e nel pomeriggio una serie di spettacoli la manifestazione è a ingresso libero e gratuito e frutto del lavoro di tanti volontari ora uno sguardo alla nostra programmazione perché oggi davvero in questa settimana il sasso nello stagno ha barcato i confini nazionali per darci uno sguardo su quello che sta succedendo a livello internazionale ospite di Maurizio De Paolo è stato Fulvio Scaglione direttore di Inside Over la trasmissione vi ricordo torna in replica anche domenica alle 14 questa settimana ospite della puntata del sasso nello stagno è stato Fulvio Scaglione un giornalista esperto di geopolitica con la quale col quale abbiamo riflettuto sui due conflitti in atto alle porte del nostro paese se volete o dell'Europa e quindi al conflitto medio orientale e il conflitto russo ucraino Fulvio molti temono che questi conflitti possano ampliarsi ed esplodere qualcuno parla addirittura di un possibile conflitto tra virgolette mondiale tu cosa pensi? naturalmente come tutti mi auguro che questa prospettiva sia irreale però dobbiamo anche essere come dire oggettivi realistici e considerare questo le guerre che l'Occidente chiamiamolo così si è trovato a gestire negli ultimi decenni sono sempre state guerre contro avversari di gran lunga meno potenti inferiori dal punto di vista tecnologico militare economico politico tutto adesso per la prima volta da lungo tempo da molto lungo tempo il conflitto si svolge quello acceso è con avversari che sono invece sufficientemente potenti per tenere testa alla capacità militare politica tecnologica di nuovo dell'Occidente in questo contesto viene meno quella famosa frase che si cita sempre si spaccia in parabellum questo vale se tu prepari la guerra nei confronti di un potenziale avversario a te inferiore ma se tu prepari la guerra nei confronti di un avversario di pari o comunque temibile potenza preparare la guerra purtroppo avvicina la guerra non la allontana e quindi dovremmo stare tutti molto attenti soprattutto ovviamente chi ha il potere di decidere le cose non solo che si dicono ma soprattutto che si fanno in questo momento ora lo sport il ciclismo Marcello Perugini ha incontrato per noi Francesca Barale Francesca Barale al terzo anno da professionista ha iniziato questa stagione direi nel migliore dei modi togliendosi delle soddisfazioni in modo particolare in Australia la incontriamo qui a Domodossola è uno dei pochi giorni disponibili che ha per stare a casa ma comunque sempre per allenarsi dicevamo inizio di stagione molto positivo sì dai ho iniziato la stagione in Australia con la squadra che mi ha dato alcune opportunità e diciamo ho raccolto parecchi piazzamenti che in una gara World Tour diciamo non sono da poco quindi sono stata contenta e ha dato una bella spinta per iniziare bene la stagione quindi il morale è buono mi dicevi prima la tua squadra olandese molto giovane quest'anno potrai avere un po' più di libertà in corsa sì sicuramente nelle gare più minori perché noi abbiamo comunque due o tre leader che sono sempre presenti come adesso nelle classiche del nord e sarò più una donna da supporto ecco però più avanti nella stagione o comunque nei grandi giri magari il giorno in cui c'è la fuga perché no quindi diamo uno sguardo invece al futuro soddisfatti di questo inizio dicevamo prima quali sono i prossimi impegni andrai adesso al nord sì adesso sarò per un mese in Olanda e farò tutta la campagna del nord diciamo delle gare diciamo quelle più dure Fiandre Ardenne Amstel Liegi tutte quelle lì e poi tornerò penso per un periodo un po' più di recupero e poi vedremo i grandi giri penso o il tour o il giro e devo ancora sapere ecco vuoi raccontarci un po' com'è com'è la tua vita da professionista quanto tempo dedichi all'allenamento riesci anche a trovare tempo per divertirti ma diciamo che è una vita impegnativa però come dicevo già prima la mia è una passione quindi non mi pesa neanche posso ritenermi fortunata di essere che al mio lavoro ecco però sì è impegnativa comunque mi alleno tutti i giorni ho bisogno anche di riposare quindi non è che esco troppo così però fa tutto parte diciamo di quello che vuoi raggiungere quindi non è un peso ecco in bocca al lupo a Francesca io mi fermo qui prima vi ricordo che questa notte torna l'ora legale allora le due bisogna spostare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio grazie per essere stati con noi naturalmente a tutti voi l'augurio di una felice e serena Pasqua buona serata grazie a tutti grazie a tutti